Buongiorno, sto qui con mio amico Ericko Borzio di Napoli, dove oggi ho fatto il mio impasto per il campionato del mondo dei pizzaioli. Il Napoli Pizza Village, qui sei Lampo 2, il pizzaioli Ericko, un grande pizzaiolo, un istruttore, un grande amico mio, noi lavoriamo giunto in Guinness 2014, Pizza Village, all'inaugurazione di Napoli Mania in San Paolo, e questo è il mio impasto, un impasto per il pizza village, il trofeo Napoli Pizza Village, una bellissima espansione, e questo è questo, sto qui in Napoli con un amico Ericko Borzio. Speriamo che questo campionato possa vincere molto, molto meglio, quindi non so che portiamo un bel premio in Brasile. E' un augurio che ti dò da collega e da mio amico. Grazie, grazie. E' qui con noi il mio figlio William. Il mio figlio è venuto anche per partecipare, fare un po' di prova di pizza acrobatico, e anche per entrare in alcune pizze speciali. E' qui con noi è venuto nella pizza Napoli Mania in San Paolo, e anche con noi conosciamo il Ericko di là. Quindi, Ericko, grazie domani. Ciao, in bocca al lupo. Un saluto a tutti gli amici brasiliani. Ok, grazie, ciao. Grazie.